Secondo quanto riferito, il principe William è furioso per un'affermazione fatta nel nuovo libro Endgame del biografo di Harry e Meghan, Omid Scobie.Il principe William è assolutamente ribollente per un'affermazione fatta dal principe Harry e dall'amico di Meghan Markle, Omid Scobie, nel suo ultimo libro Bomba, è stato riferito.Si dice che il principe di Galle sia indignato nei confronti di Scobie per aver affermato di essersi rifiutato di rispondere alle chiamate del principe Harry mentre la regina Elisabetta II giaceva morente a Belmora l'anno scorso. Parlando a Talktf, il conduttore Kevin O'Sullivan ha detto, Harry e Meghan stanno prendendo le distanze dal nuovo libro Bomba di Omid Scobie, che dice principalmente che William si è rifiutato di rispondere alle chiamate di Harry nelle ore precedenti la triste morte della regina. William è assolutamente furioso per questo. Sta solo dicendo che non è assolutamente vero. Il commentatore ha aggiunto che è triste vedere la spaccatura tra William e Harry crescere dopo che sembrava che le relazioni stessero migliorando tra il campo del Sussex e Buckingham Palace.Nella prima parte del suo nuovo libro Endgame, serializzato dalla rivista People negli Stati Uniti, Scobie scrive che il principe Harry è stato tenuto all'oscuro della morte della defunta regina e ha sentito parlare per la prima volta della sua morte da un avviso dell'app BBC News. Il biografo scrive, quando l'aereo di Harry finalmente toccò l'asfalto 20 minuti e dopo, ricevette un messaggio da Meghan che lo invitava a chiamare al più presto seguito da un avviso di ultime notizie tramite l'app BBC News con l'annuncio della morte della regina. Secondo quanto riferito, il duca di Sussex avrebbe anche pregato il palazzo di non rilasciare una dichiarazione sulla morte della regina perché voleva essere con la sua famiglia quando sarebbe arrivata la notizia. Scobie scrive anche che la regina avrebbe voluto che Harry sapesse che era morta prima che il pubblico ne fosse informato.